siete nati per correre stiamo arrivando vi piacciono le sfide siete pronti per una nuova ed emozionante stagione nasce per voi speed runner nuovo programma dedicato a voi podisti per farvi rivivere i momenti e le emozioni di ogni vostra gara correte con noi seguiteci speed runner solo su tv parma